Il Made in Italy oggi vale circa 580 milioni di euro con 4 milioni di occupati nella filiera dell'agroalimentare nel nostro paese. Ma si può fare di più per Coldiretti, recuperando con tutti quei territori che sono stati abbandonati. Investendo in infrastrutture, con la realizzazione di bacini di accumulo, trattenere più acqua piovana, creare le condizioni per le quali dove non c'è l'acqua poterla portare, significa triplicare le rese per superficie, tornare ad avere una giusta redditualità del lavoro che svolgono i nostri impreditori è il grande impegno che Coldiretti sta mettendo in campo riscoprendo il tema della sovranità alimentare. Aumentano del 31% le allarmi alimentari in Italia con 389 notifiche inviate dal nostro paese all'Unione Europea, di cui 8 su 10 l'80% riguardano cibi provenienti dall'estero. Il quadro che emerge dunque dal dossier Coldiretti sulla blacklist dei cibi più pericolosi sugli scaffali venduti in Italia diffusi in occasione del Forum Internazionale dell'Agricoltura e dell'Alimentazione della Coldiretti non è rassicurante, per questo c'è bisogno più che mai di regole a livello europeo. Abbiamo bisogno di un coordinamento a livello europeo e di un governo che sia in grado, in raccordo con le organizzazioni di categoria, di difendere gli interessi del nostro paese, non come semplice slogan o polemica politica di cui non abbiamo bisogno, ma come strumento di collaborazione e confronto con la Commissione Europea per difendere le specificità e le peculiarità del nostro sistema produttivo che nel campo agricolo rappresenta certamente un'eccellenza a livello mondiale. Il progetto europeo deve essere un progetto che mette in campo queste alternative concrete, la genetica non OGM, il precision farming, tutte tecnologie e l'innovazione che possono aiutare gli agricoltori a raggiungere queste sfide della sostenibilità. Quindi, come giustamente ha detto la nostra Presidente Roberta Mezzola, le riforme si fanno con gli agricoltori, non contro gli agricoltori. Il Fondo per la Sovranità Alimentare nella legge di bilancio del governo Meloni nasce in questo senso, per dare attenzione ad uno dei primi settori in termini di PIL.